Questo momento per comunicare la presentazione di un progetto di legge in materia di regolamentazione degli usi civici e soprattutto di semplificazione del processo di legittimazione delle aree gravate da uso civico. Un tema antico sul quale spesso si sono registrate delle difficoltà per quanto riguarda i tempi previsti dalle procedure regionali nella legittimazione appunto del possesso di queste terre. Il progetto, nel quale ringrazio anche per essere cofirmatario il collega Fabrizio Montepara, va nella direzione di rimettere la potestà di decretare la legittimazione ai comuni e non più alla regione. I comuni che già sono coinvolti nell'istruttore, quindi non andremo a gravare con delle particolari adempienze o nuove adempienze i comuni, ma semplicemente semplificare il processo istruttorio che sarà ultimato e definito con un provvedimento proprio del comune, al quale tra l'altro prevediamo nell'ambito del corpo della legge di riconoscere dei contributi per questa attività istruttoria, che ripeto loro già fanno e che spesso attraverso una sorta di bicameralismo, la documentazione istruttoria del comune viene rimessa alla regione, poi torna al comune e quindi alla regione per la definitiva legittimazione con il decreto del presidente della regione. Qui invece semplifichiamo e saranno i comuni a emettere il provvedimento definitivo di legittimazione. Questo è chiaro che tra l'altro non va ad implicare delle nuove attività e dei nuovi servizi per il comune in divenire, in quanto trattasi di aree sulle quali è stato rilevato l'uso civico e non ce ne saranno altre, quindi diciamo che con questo provvedimento di semplificazione mettiamo la parola fine a tutta una serie di necessità che si sono riscontrate dai vari enti locali.